era una di quelle ragazze belle e seducenti che nascono come per errore del destino in una famiglia di impiegati non aveva alcuna speranza nessuna possibilità di essere conosciuta, compresa, amata sposata da un uomo ricco e raffinato lasciò che la dessero in moglie ad un impiegatuccio del ministero della pubblica istruzione non potendo far lussi si vestì con semplicità ma fu infelice come se fosse degradata poiché le donne non appartengono né a una casta né a una razza bellezza, grazia, fascino sostituiscono per loro nascita e famiglia l'innata finezza, l'istintiva eleganza la disinvoltura sono l'unica gerarchia e rendono le popolane uguali alle più grandi dame soffriva senza posa sentendosi nata per tutte le delicatezze e tutti i russi soffriva per la povertà del suo appartamento per lo squallore delle pareti per le sedie consunte e logore per la bruttezza delle stoffe tutte queste cose delle quali un'altra donna della sua condizione non si sarebbe nemmeno accorta la torturavano la disgustavano la irritavano vedendo la piccola bretona che le sbrigava le faccende di casa si risvegliavano in lei i desolati rimpianti e vaghi, irrealizzabili sogni pensava a saloni silenziosi ovattati da pareti orientali illuminati da grandi torciere di bronzo e a due alti valletti in polpe che sonnecchiavano nelle loro ampie poltrone intorpiditi dal pesante calore del termosifone pensava a grandi sale rivestite di sete antiche a mobili pregiati ricoperti di ninoli preziosi e i salotti civettuoli profumati fatti per la conversazione del pomeriggio con gli amici intimi i uomini noti e ricercati coloro che tutte le donne desideravano e dei quali desidererebbero le attenzioni quando si sedeva per decinare davanti a una tavola rotonda coperta da una tovaglia di tre giorni prima di fronte al marito che scoperchiava la zuppiera esclamando con aria beata che buona minestra non c'è nulla di meglio lei pensava a pranzi raffinati a rilucenti argenterie ad arazzi che popolano i muri di antichi personaggi e di strani uccelli in mezzo a foreste incantate pensava alle vivande squisite servite in bellissimi piatti alle galanterie sussurrate e ascoltate con un sorriso di spinge continuando a mangiare la carne rosata di una trota o un'ala di fagiana non aveva bei vestiti non aveva gioielli ed erano le sole cose che le piacessero per le quali si sentiva nata avrebbe tanto desiderato piacere essere invidiata seducente e desiderata aveva un'amica ricca una compagna di convento che non andava più a trovare perché tornando a casa ne soffriva troppo e piangeva per giornate intere di dolore di rimpianto di disperazione di sconforto una sera suo marito tornò a casa tutto trionfante tenendo in mano una grossa busta tieni disse ecco qualcosa per te lei strappò nervosamente la busta e ne tirò fuori un cartoncino su cui era scritto il ministro della pubblica istruzione e la signora Ramponot hanno l'onore di invitare il signore e la signora Loazel alla serata di gala che si svolgerà lunedì 18 gennaio nel palazzo del ministero invece di essere contenta come sperava suo marito lei buttò con dispetto l'invito sulla tavola mormorando che vuoi che me ne faccia ma cara pensavo che ne saresti tanta contenta non vai mai in nessun posto e questa è una magnifica occasione ho dovuto faticare molto per ottenerlo questo invito tutti lo vorrebbero tutti si danno da fare e non ce ne sono molti per gli impiegati ti sarà una migliore società lei lo fissò corrucciata e disse con impazienza cosa vuoi che mi metta addosso per andare in un posto simile non ci aveva pensato balbettò il vestito che ti metti per andare a teatro mi sembra molto bello tacque stupito e confuso nel vedere che la moglie stava piangendo due lacrimoni le scendevano lentamente dagli angoli degli occhi verso gli angoli della bocca che hai che hai balbettò lo asel con uno sforzo violento matilde si era dominata e rispose con voce normale asciugandosi le guance umide nulla soltanto che non ho vestiti e che a quella festa non ci posso venire da quell'invito a qualche collega che abbiano moglie messa un po' meglio di me lui era dispiaciuto disse ascolta matilde quanto verrebbe a costare un vestito decente che ti potrebbe servire anche in altre occasioni qualcosa di semplice lei riflette per qualche istante facendo i conti e pensando a quale somma avrebbe dovuto chiedere senza provocare l'immediato rifiuto e lo stupore sgomento dell'economo impiegatuccio alla fine rispose esitando non saprai con esattezza ma forse potrei farcela con 400 franchi lui era lievemente impallidito perché riservava quella somma per comprarsi un fucile con cui andare a caccia l'estate seguente nella pianura di Nanterre insieme con certi amici che andavano là a tirare agli allodole la domenica però aveva risposto va bene ti do 400 franchi ma cerca di trovare un bel vestito si avvicinava il giorno della festa la signora Loazel pareva triste inquieta preoccupata eppure il vestito era già pronto una sera suo marito le chiese che hai da qualche giorno mi sembri strana lei rispose mi dispiace non avere nemmeno un gioiello un anello o una cosa da mettermi addosso chissà come sembrerò misera quasi preferirei non andare alla festa il marito disse puoi metterti dei fiori freschi in questa stagione è molto fine con 10 franchi puoi comprare due o tre splendide rose lei non era convinta no no non c'è nulla di più umiliante che sembrare povere in mezzo a donne ricche il marito esclamò quanto sei sciocca va dalla tua amica alla signora Forestier e fatti prestare un gioiello da lei siete abbastanza amiche perché tu possa farlo lei mandò un grido di gioia è vero non ci avevo pensato il giorno dopo andò dall'amica e le raccontò il suo cruccio la signora Forestier si diresse verso l'armadio a specchio le trasse un cofanetto lo aprì e disse alla signora Loiselle ecco cara scegli vide braccialetti una collana di perle una croce veneziana ad oro e pietre immirabile fattura si provava i gioielli davanti allo specchio esitava non sapeva decidersi a toglierseli non sapeva decidersi a toglierseli a riporli chiedeva non agli altri ma sì cerca non so cosa preferisci a un tratto scoprì in una scatola di raso nero una collana di diamanti bellissima e il cuore le palpitò di desiderio nel prenderla le tremavano le mani se la agganciò sul vestito accollato e restò a guardarsi e statica perplessa e ansiosa domandò puoi prestarmi questa questa solamente certo prendila saltò al collo dell'amica la baciò con foga e scappò col suo tesoro venne la sera della festa per la signora Loiselle fu un trionfo era la più bella di tutte elegante graziosa sorridente esaltata dalla gioia tutti gli uomini la guardavano chiedevano chi fosse cercavano di esserle presentati tutti i segretari di gabinetto voglero ballare con lei il ministro la notò lei danzava inebriata con ardore stordita dal piacere senza pensare ad altro nel trionfo della bellezza nella gloria del successo in una specie di aureola della felicità formata da quegli omaggi dall'ammirazione dai desideri suscitati da quella vittoria così completa e così cara al cuore femminile andò via verso le 4 di mattina da mezzanotte suo marito stava dormendo in un salottino insieme con altri tre signori le cui mogli si divertivano moltissimo lui le buttò sulle spalle il capottino che aveva portato un modesto capottino che per la sua povertà contrastava con l'eleganza dell'abito da ballo lei se ne accorse e volle scappar via per non essere notata dalle altre donne che si avvolgevano in ricche pelliccia la sel cercava di trattenerla aspetta prenderai un malanno vado a chiamare una carrozza ma lei non lo stette a sentire e scese rapidamente le scale per la strada non c'erano carrozze e si misero a cercarne una chiamando i cocchieri che vedevano passare lontano andarono verso la senna senza più speranze tremando per il freddo finalmente trovarono sul lungo senna una di quelle carrozze notturne che si vedono per le strade di Parigi soltanto di notte quasi si vergognassero di mettere in mostra la loro miseria durante il giorno li ricondusse fino all'uscio di casa in ruide martir e salirono tristemente le scale di casa era finito pensava lei e lui pensava che alle dieci avrebbe dovuto trovarsi al ministero Matilde si levò il cappotto che le ricopriva le spalle davanti allo specchio per potersi ammirare ancora una volta in tutto il suo splendore ma lanciò un grido improvviso non aveva più la collana suo marito da mezzo spogliato le chiese che c'è Matilde si voltò verso di lui sgomenta oh oh ho perso la collana la collana della forestier lui smarrito salto a discatto cosa come non è possibile cercarono tra le pieghe del vestito tra le pieghe del mantello nelle tasche dappertutto non la trovarono lui domandò sei sicura che l'avevi ancora quando siamo venuti via dal ballo sì me la sono toccata nell'atrio del ministero ma se l'avessi persa per strada l'avremmo sentita cadere deve essere nella carrozza può darsi hai visto che non me lo aveva no e tu tu non l'hai guardato no si fissarono costernati alla fine Loisel si rivestì vado a rifare il tragitto che abbiamo percorso a piedi disse per vedere se la ritrovo e uscì lei rimase in abito da sera senza avere la forza di andare a letto accacciata su una seggiola stremata con la testa vuota suo marito tornò verso le sette a mani vuote era andato alla prefettura di polizia ai giornali per promettere una ricompensa alla società delle carrozze ovunque insomma un barume di speranza lo avesse spinto Matilde aspettò tutto il giorno nello stesso stato di prostrazione dinanzi a quel tremendo disastro Mosel tornò a casa la sera col volto incavato pallido non aveva trovato nulla devi scrivere alla tua amica disse che ti si è rotto il fermaglio della collana e l'hai mandata a riparare ti sarà il tempo di provvedere Matilde scrisse quel che il marito le dettò dopo una settimana avevano perso ogni speranza Mosel che era invecchiato di cinque anni disse dobbiamo pensare a comprare un'altra collana il giorno dopo presero l'astuccio nel quale era riposta e andarono dal gioielliere il cui nome era scritto nell'interno questi consultò i registri e disse no signora questa collana non l'abbiamo venduta noi soltanto l'astuccio è nostro allora andarono da un gioielliere all'altro cercando una collana simile a quella perduta frugando nella loro memoria sfiniti dal dolore e dall'angoscia in un negozio di paleroia trovarono una collana di diamanti che parve loro perfettamente identica a quella che cercavano costava 40.000 franchi e l'avrebbero data per 36.000 pregarono di non venderla prima di tre giorni e stabilirono che il gioielliere l'avrebbe ripresa per 34.000 se la collana perduta fosse stata ritrovata entro febbraio Loisel possedeva 18.000 franchi lasciatili dal padre il resto lo avrebbe preso in prestito chiese mille franchi in prestito da questo 500 da un altro 5 luigi qui 3 luigi là firmò cambiali prese impegni disastrosi ebbe a che fare con gli usurai con ogni specie di strozzini compromise tutto il resto della sua vita rischiò la sua fama senza sapere nemmeno se avrebbe potuto farle onore e angosciato dal pensiero dell'avvenire della miseria che gli sarebbe piombata addosso dalla prospettiva delle privazioni fisiche e delle torture morali andò a comprare la collana nuova posando sul banco del gioielliere 36.000 franchi quando la Loisel riportò la collana alla signora Forestier questa le disse con tono seccato avresti dovuto restituirmela prima avrei potuto averne bisogno non aprì l'astuccio come Matilde temeva si fosse accorta della sostituzione chi avrebbe pensato cosa avrebbe detto avrebbe anche potuto trattarla da ladra la signora Loisel conobbe l'orribile vita dei poveri vi si rassegnò subito eroicamente bisognava pagare quel debito spaventoso l'avrebbe pagato licenziarono la servetta cambiarono casa e prezzero una soffitta sotto i tetti lei conobbe i pesanti lavori di casa le odiose fatiche della cucina rigovernò i piatti rovinandosi le unghie rosate sulle stoviglie unte e sul fondo dei tegami lavò la biancheria sudicia le camicie gli stracci stendendoli ad asciugare su una corda tutte le mattine portava giù la spazzatura e portava sull'acqua fermandosi ad ogni piano per riprendere viato vestita come una donna del popolo andò dal fruttivendolo dal droghiere dal macellaio col paniere sul braccio tirando sui prezzi sopportando in giulie pur di difendere a soldo a soldo il suo miserabile denaro tutti i mesi dovevano pagare cambiali rinnovarne altre guadagnare tempo il marito lavorava di sera rivedeva la contabilità di un commerciante e spesso di notte faceva il copista a cinque soldi per pagina questa vita durò dieci anni dopo dieci anni avevano restituito tutto tutto compreso gli interessi degli struzzini e l'insieme degli interessi composti la signora Loiselle ora pareva una vecchia la signora Loiselle ora pareva una vecchia era diventata la donna forte dura e rude delle famiglie povere spettinata con le gonne di traverso le mani rosse parlava a voce alta davava ai pavimenti buttandoci l'acqua col secchio ma qualche volta quando il suo marito era in ufficio si sedeva davanti alla finestra e pensava a quella serata di tanti anni fa a quel ballo dove era stata così bella e così festeggiata cosa sarebbe accaduto se non avesse perso la collana chissà chissà com'è strana la vita è mutevole basta poco per rovinarsi o per salvarsi una domenica era andata a fare una passeggiata agli Champs-Élysées per distrarsi dalle faccende della settimana ad un tratto scorse una signora che stava passezzando con un bambino Matilde si sentì turbata le avrebbe rivolto la parola sì certamente e ora che aveva pagato le avrebbe detto tutto perché no le si avvicinò buongiorno Jean l'altra non la riconosceva meravigliandosi di sentirsi chiamata con tanta familiarità da una popolana balbettò ma signora non so credo che vi sbagliate no sono Matilde Loazel l'amica lanciò un grido oh mia povera Matilde come sei cambiata sì ho passato dei giorni molto duri da quando non ci siamo più viste e tante miserie per causa tua mia? per colpa mia ti ricordi quella collana di diamanti che mi prestasti per andare alla festa del ministero? sì ebbene ebbene io l'ho persa come? se me l'hai resa te ne ho resa un'altra proprio uguale e sono dieci anni che la stiamo pagando capirai che non è stato facile per noi che non avevamo nulla ora però è finito sono molto contenta dici che hai comprato una collana di diamanti per sostituire la mia? sì non te ne sei accorta vero? erano proprio uguali e sorrideva orgogliosa e ingenuamente felice la signora Forestier commossa le afferrò le mani oh mia povera Matilde ma la mia era falsa valeva al massimo cinquecento franchi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti